Ben trovati da Silvia De Sandi al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Un saluto agli amici che ci ascoltano sulle frequenze di Radio Bari. In apertura la politica continua allo strascico di polemiche dopo la direzione regionale del Partito Democratico di ieri. Intanto sono al lavoro i nuovi assessori nominati da Vendola. Silvia Di Pinto. Direzione regionale del PD, tanto tuonò ma non piove, lo scrive sulla sua bacheca Facebook Fabiano Amati. Uno degli scontenti della discussione di ieri nella direzione, ancora una volta aperta al pubblico e alla stampa. Ho votato contro il documento perché questo è il tempo in cui servono parole di realtà senza finzioni, continua Amati. Ho ascoltato quattro ore di interventi risoluti con punte di franchezza che sfioravano la rissa, riassunti però in un documento che si sarebbe potuto votare fra un mese o anche tre anni fa. Non si placa la scia di polemiche dopo l'infocata direzione regionale di ieri, quasi in concomitanza con l'insediamento della nuova giunta. La linea del partito è rilanciare un patto costituente di fino a forza inizio legislatura e Blasi non disdegna la mediazione di Bersani per dialogare con il presidente Nichi Vendola. I temi del patto sono racchiusi nel documento votato ieri. Piano per il lavoro, monitoraggio sulle infrastrutture, sanità dopo il piano di rientro, piano dei rifiuti, sblocco dei pagamenti a favore delle imprese creditrici e acqua bene comune. Infine, inelodibile e urgente, si legge la riforma della legge elettorale regionale e su questo il partito vincola a un impegno determinato i consiglieri del PD. E mentre Minervini smorza i toni, almeno ufficialmente, e saluta l'inizio di una nuova avventura, al comune di Bari si prepara la successione a Gianni Giannini. La delega al bilancio è ora nelle mani del sindaco, ma le prossime importanti scadenze potrebbero far optare il primo cittadino per un atteso rimpasto in giunta. Entro il 30 aprile, infatti, si approva il conto consuntivo. Tappa successiva è il bilancio di previsione. È una sfida importante, quella appunto che attende l'assessore Gianni Giannini che lascia il bilancio al comune di Bari per conquistare la delega a infrastrutture e lavori pubblici alla regione Puglia. Noi lo abbiamo intervistato. La sfida è immane perché si tratta di affrontare, per me almeno, dei campi di intervento nuovi e la garanzia che posso dare è profondere il massimo dell'impegno. C'è anche la partita della nuova programmazione dei fondi comunitari. Anche questo è una sfida importante. Sì, sì, ieri il Presidente ha dato notizia che è stato già predisposto il documento che sarà sottoposto al partenariato. Prenderò cognizione di questo documento, anche se ovviamente si tratterà di un impegno soltanto a livello di programmazione perché la realizzazione difficilmente sarà possibile garantirla visto il breve lasso di tempo fino alla fine della legislatura regionale. Ieri sia il Sindaco Michele Emiliano che il Presidente Nichi Vendola ci hanno tenuto a sottolineare che nelle nomine non c'è quel cosiddetto asse Vendola Emiliano. Lei conferma? Io sono testimone di questa affermazione. Nel senso che ho ricevuto una telefonata dal Presidente della Regione, dal Presidente Vendola che mi comunicava la sua decisione di affidarmi l'incarico e nel corso della telefonata mi ha anche informato di aver riferito la sua decisione al Sindaco di Bari per cui ritengo che il Sindaco Emiliano sia assolutamente strano alla decisione adottata dal Presidente. Potrebbe essere un Consiglio Comunale Lampo quello di domani. Il Partito Democratico infatti dietro sollecitazione del Consigliere Massimo Maiorano potrebbe chiedere di anticipare la discussione sulle linee di indirizzo per la Costituzione dei Municipi un punto che spiegano se Slit ancora rischia di rendere vano tutto il percorso sul decentramento e di far tornare i baresi alle urne ancora con le circoscrizioni e tanti consiglieri che già promettono battaglia. Intanto oggi la Commissione Pari Opportunità ha chiesto di incontrare nei prossimi giorni il Direttore dell'Asle di Bari per l'emergenza aborti negati negli ospedali cittadini. Scade tra poco più di una settimana il termine per presentare le domande di sospensione delle rate dei mutui sulla casa, uno strumento di agevolazione per le famiglie adottato dall'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana. Ma sono ancora tanti coloro che non riescono ad onorare il debito e sono costretti a rivendere l'immobile. Ce ne parla Cristina Ferrigni. C'è tempo fino al 31 marzo per presentare le domande della sospensione delle rate dei mutui e la quinta proroga stabilita dall'ultimo accordo firmato dall'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana e 13 associazioni di consumatori. L'obiettivo è quello di non far mancare alle famiglie in difficoltà uno strumento di supporto per onorare il debito contratto per l'acquisto di una casa. Ma chi può realmente usufruire di tale agevolazione? Noi ci siamo posti la domanda e abbiamo chiesto il parere di un esperto, l'avvocato Massimo Melpignano dell'Adusbef. Non è un problema di proroga, è un problema per intanto di affrontare in maniera drastica il problema dei mutui, che continua ad essere un'emergenza nazionale dal 2008 ad oggi e queste soluzioni sono soltanto delle soluzioni di tampone. Fintanto che avremo in Italia una legge sull'usura che consentirà alle banche di applicare anche tassi per i mutui a tasso fisso, ad esempio fino al 10% e tutto questo a norma di legge secondo gli ultimi tassi usurari, ci sarà qualcosa che continuerà a non funzionare in questo meccanismo. E poi è la legge che ha dei meccanismi che tutelano poco le persone, ad esempio questo piano ABI è applicabile soltanto a chi ha contratto mutuo fino a 150 mila euro. Ma dove la troviamo oggi una casa che costa così poco con quello che costano le case? Intanto, riporta l'ABI, sono più di 85 mila i mutui sospesi dalle banche a dicembre 2012 pari a circa 9,8 miliardi di debito residuo e la Puglia è tra le regioni dove la quota sospesa è pari al 38,3 milioni di euro su 5.665 famiglie. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanne messa circa un anno fa dalla Corte d'Appello di Palermo nei confronti dei piloti e tecnici della TR-72 e della Tuninter che si spezzò in tre parti amarando nel Golfo di Palermo il 6 agosto 2005. Il disastro costò la vita a 16 persone 7 gli imputati, tutti tunisini attualmente nel loro paese accusati a vario titolo di disastro colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose gravissime. Il Cipe finanzia lavori per la messa in sicurezza di 8 scuole Baresi e i cantieri dovranno partire entro 90 giorni. Silvia Dipinto Un milione di euro per mettere in sicurezza 8 scuole elementari cittadine Unica condizione far presto, visto che i cantieri dovranno partire entro 90 giorni pena lo stop al finanziamento. La conferma che i fondi ci sono è arrivata questa mattina a Palazzo di Città. Fondi Cipe, per ottenerli, il Comune di Bari aveva partecipato ad un bando due anni fa. Le scuole erano state individuate da un gruppo di lavoro composto tra gli altri da vigili del fuoco e ufficio scolastico regionale. Quelle più a rischio e dunque con maggiore necessità di interventi di messa in sicurezza sono risultate Santo Mauro, Michelangelo, Chiaia, La Terza, Red David, Diamicis, Piccini, Duca d'Aosta e Fracca Creta che comporterà la ristrutturazione di Villa Durante. Gli interventi riguarderanno infissi, lastrici solari da impermeabilizzare e cornicioni pericolanti di modo da adeguare tutti i plessi alle norme di sicurezza. Per accelerare i tempi l'assessoratoio ai lavori pubblici ha convocato per martedì una conferenza di servizi per predisporre subito la gara da appaltare entro tre mesi. Il CSM ha convocato per l'8 aprile il procuratore di Bari Antonio Laudati sul quale pende una procedura di trasferimento d'ufficio per incompatibilità. Una procedura legata alle indagini della Procura di Lecce a carico del capo dei PM del capoluogo pugliese per favoreggiamento nei confronti dell'ex premier Silvio Berlusconi nell'inchiesta sulle escort con l'audizione del procuratore di Bari che si avvarrà dell'assistenza dell'ex PM di Mani Pulite Pier Camillo Davigo parte un'indagine della prima commissione nell'ambito della quale è possibile siano sentiti altri magistrati. È stato fissato per domani mattina l'interrogatorio di garanzia di Alberto Tedesco, ex senatore del PD poi passato nel gruppo misto, arrestato il 15 marzo scorso nell'ambito di una delle inchieste della Procura di Bari sulla gestione della sanità in Puglia tra il 2005 e il 2009 quando Tedesco era assessore regionale. All'alba del 15 decaduta l'immunità parlamentare i carabinieri del nucleo investigativo di Bari hanno notificato all'ex senatore due ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari per i reati di associazione per delinquere, concussione, abuso d'ufficio, turpativa d'asta, corruzione e falso. E sale la tensione tra Palazzo di Città e i commercianti di Bari Vecchia. Ieri la notizia della chiusura indagini per i 14 commercianti che per protesta contro la chiusura al traffico del lungomare a luglio scorso erano stati i protagonisti di un'accesa protesta. Il reato contestato per loro è di manifestazione non autorizzata in tralcio all'ordine pubblico. Le indagini sono partite dalla denuncia della polizia a non aria. Una notizia questa che esaspera il malcontento già più volte manifestato per la mancanta riqualificazione del borgo antico. Oggi il sindaco ha convocato i commercianti a Palazzo di Città, un incontro che gli esercenti potrebbero disertare per protesta. Nella quarta giornata del Bifest, appuntamento al Teatro Forma ieri sera, con un concerto tenuto dal Collegium Musicum di Bari in omaggio a Nino Rota e alle colonne sonore più belle del cinema italiano. Barbara Cirillo. Un concerto, un ricordo, per rivivere con dolce nostalgia, anche solo per un attimo, le emozioni che si provavano a vedere un film di Fellini e ad ascoltarne le colonne sonore. Tutto questo è avvenuto ieri sera sul palco del Teatro Forma per l'ennesimo appuntamento della quarta giornata del Bifest 2013. A suonare le note delle musiche di alcuni dei film più belli del cinema italiano, come La strada di Dino Risi e Amarcore di Federico Fellini, il Collegium Musicum, orchestra sinfonica barese nata nel 1992. L'appuntamento al Teatro Forma per questa sera, invece, è con Luigi Locascio in Uno, Nessuno e Centomila, una lettura alle ore 21. L'attore italiano sarà poi impegnato domani alle ore 16 nel solito appuntamento con il laboratorio teatrale sul mezzo do Orazio Costa, sempre al Teatro Forma. Passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito più tardi con l'informazione di Telebari. Grazie.